Taglio del nastro domenica per il nuovo parco giochi dell'oratorio parrocchiale San Gabriele di Arco. Con una bella festa di primavera e l'entusiasmo di un centinaio di persone tra bambini e genitori, abbiamo inaugurato uno spazio dedicato ai più piccoli, ha commentato il presidente dell'associazione Noi Oratorio Arco, Franco Righi, per soddisfare una fascia d'età diversa rispetto a quella dei campi da gioco e grazie anche alla collaborazione di molti volontari e alla Cassa Rurale Alto Garda, sempre sensibile alle nostre iniziative. A impartire la benedizione al nuovo parco giochi è stato Don Walter Sommavilla, che ha lasciato poi spazio alla festa. Noi Oratorio ha aperto anche le iscrizioni al Grest 2017, che si terrà dal 12 al 30 giugno. I campeggi a San Giovanni, invece, avranno una durata settimanale per turno nei mesi di luglio e agosto.